Quello che faremo questa settimana è assaggiare un piatto di pasta, mangiare un piatto di pasta condito con un ragù vegetale, cioè con un ragù in cui non c'è carne ma c'è al suo posto il seitan. Ora proviamo e proviamo. Possiamo solo provare. Ok. Pensando a questo video mi ero proprio ripromesso a questo punto di scappare. Uscire fuori campo e fingere un colato di vomito. Questo non lo farò però. Assomiglia al ragù vero, però ci assomiglia solo. Non lo è, ci va solo vicino. Non è malaccio perché davvero non è malaccio, però diciamo che il ragù vero è un'altra cosa. Però se uno vuole non mangiare carne è un, come si dice, può essere un'alternativa e per quanto riguarda la prova finisce qua. Nel senso, me la mangio tutta ma a differenza della pizza ad ananas non farò il video mentre mangio l'intero piatto perché mi sono reso conto che avrebbe poco senso. Questo è un video molto breve, finisce qui. Io vi ricordo che in iscrizione ci sono sempre i miei racconti gratuiti, oltre ai miei libri, se vi fa piacere di leggere qualcosa di mio. E per il resto vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima. Io intanto continuo a mangiare.